Nuovo primato per l'Università della Calabria che risulta il primo grande ateneo statale in quanto a crescita di matricolate al Sud, segnando oggi un più 23% rispetto al pre-pandemia e tra le sole tre università d'Italia avvantarono un aumento in ciascun anno di all'equatrennio nel numero di studenti neo iscritti. Il risultato appare ancora più rilevante nel confronto col sistema universitario statale italiano che nello stesso periodo risulta a crescita a zero, per cui l'aumento unica è di ben 23 punti percentuali al di sopra della media nazionale. Infatti dall'analisi dei dati dell'anagrafe nazionale studenti ressi recentemente disponibile dal Ministero dell'Università e della ricerca sulle nuove iscrizioni ai corsi di laurea triennale e al ciclo unico emerge che il sistema universitario statale è tornato ai livelli pre-pandemia. L'Unical invece ha segnato un significativo aumento passando da 3.834 immatricolati del 2019-2020 a 4.704 del 2023-2024 con una crescita percentuale del 23%. L'Unical registra la crescita più alta in assoluto tra tutte le grandi università statali del Sud, inclusi i mega atenei e registra uno dei più alti tassi di sviluppo d'Italia. Non solo Unical con Pavia è tra i tre soli atenei del Paese che segna sempre un aumento in ciascuno degli anni accademici del quatrenio a conferma di un miglioramento strutturale con un'offerta didattica e servizi agli studenti che la rendono attrattiva anche nei periodi di difficoltà del sistema universitario nazionale. Grazie a tutti.